Buongiorno a tutti da StudentiG, siamo in sala in Audi per intervistare il presidente della SPAL, ovvero l'ex presidente del Bologna e del Venezia. Grazie per essere qui con noi, siamo felici di conoscere voi. Posso chiedere qualche domanda? La prima domanda, credi che sia possibile fare per i giovani in Ferrara i sport, i eventi e i progetti? Sì, per noi è molto importante, in SPAL. È per cui sono qui oggi. Abbiamo venuto a molte scuole, i nostri staff, i nostri team, i nostri scuole, i nostri scuole, perché è importante avere i giovani in sport, credo, e per SPAL essere involvati in la comunità. Quindi credo che sia una buona idea e qualcosa che siamo fokussati a fare. Quindi, do you like Ferrara? Io amo Ferrara. Io amo questa città, è così bello. È una città culturale, un'unica città Unesco World Heritage City. Io amo le persone qui qui. Io non potrei chiedere un piatto migliore per lavorare e per avere i miei team. È un'altra città, e le persone che ho incontrato sono davvero spettacolari. Quindi è così diverso? Un po' diverso da New York. Un po' diverso da New York. Culturale, credo. Un po' diverso. È tutto, sì. La velocità. Quindi, cosa pensi di Ferrara Sopo-Putters? No, sono fantastici. Sì, vogliono supportare il team, che è buono. E si supportano il team in buoni e in buoni tempi, in buoni tempi. Quindi, sono molto impressionato. Siamo sempre in stadio. Mi ero in perugia in perugia, e ci sono meno di 3.000 persone in stadio. Abbiamo, normalmente, 8.000 persone in nostro stadio, per Serie B. Ciò mostra di quanto si supportano il nostro team. Quindi, sono molto piaciuto con i fanci di Ferrara. Sì, mi piace Spal, ovviamente. Ok. Ok. Sono ancora un giudizio in America, ma credo che spendo più tempo in Spal. Quindi, quali progetti future hai con Spal? E perché hai scelto di Ferrara e Spal Society? Future progetti. I mean, first and foremost, the football team. We want to get the team back to Serie A. That's our goal. That's why we're here. And then, of course, to build different platforms, like the one we're doing with the schools. Like the new Convito we just did for the Satorre Giovenile. They, you know, do things to help the community, to be involved in the community. We have people here now who are working full-time on just the social responsibility aspect of Spal. And why I chose Spal in Ferrara? I mean, we talked about it before. The city is amazing. The fans are amazing. The facilities, the stadium and the sports center are amazing. The team has a great history, a very historical team, and the food is very good also. That's important. I have an interesting question. What do you think will be the winner of the World Cup this year? Is there a World Cup this year? I didn't even know that was happening. Is it really? Because Italy is out, so I didn't really follow it. USA is not in it. I hope Morocco wins. That's why I hope wins. What do you think of this project? It's a project that is very beautiful, very interesting, that offers tantissime opportunities to the kids. Oltre a that of getting closer to the world of sport, so to know well our squadron, our team, our territory, our team, our team, our team, our team, our team, our team. To learn to know what good is in sport, which are also useful in life. Especially in English? Soprattutto anche in English, quindi c'è anche questo aspetto, diciamo che il progetto che coinvolge tantissimi ragazzi, diverse scuole, dai bambini ai ragazzi più grandi, quindi dalle scuole dell'infanzia fino alle superiori, offre l'opportunità di spaziare su temi dalla sostenibilità rispetto dell'ambiente, rispetto verso le persone, anche quello di conoscere l'inglese e anche conoscere modelli di vita, esperienze di vita come quella di Gio. Lei è tifosa della SPAL? Ovviamente. Ovviamente, va bene. Cosa ne pensa di questo progetto? Allora, buongiorno, sono Fonasiero, la dirigente scolastica dell'Istituto Enaudi. Il progetto è una grande valenza formativa, a mio parere. Ringrazio anche, specialmente la SPAL e anche il comune di Ferrara nella figura dell'assessore Cusec, per averci sollecitato alla partecipazione. Era un progetto che ci era sfuggito a inizio d'anno. E' una grande valenza formativa, perché, specialmente per i nostri ragazzi, incontrare il presidente della SPAL, Giotta Coppina, che racconta proprio anche la sua esperienza personale e i valori in cui crede, penso sia molto da stimolo per un ragazzo che all'età di 15-16 anni ha i propri sogni, la propria vita ancora da costruire, i propri obiettivi da perseguire. E quindi i valori trasmessi oggi sono di grande impulso per i nostri ragazzi. Quindi una valenza formativa sia dal punto di vista sportivo, ovviamente, hanno partecipato i nostri ragazzi dell'indirizzo a sport e inclusione, ma specialmente anche dal punto di vista proprio della vita, degli aspetti formativi che stanno dietro alla gestione delle situazioni di vita, anche comune, a come superare i momenti di difficoltà. E quindi i valori trasmessi oggi sono ad ampio spettro e sono stati molto apprezzati, secondo me, dai nostri ragazzi. Ok, vedo già dalla sciarpa che lei è una spallina, probabilmente. Allora, la sciarpa è di mio figlio, comunque certo sono spallina, pur essendo una ferraresa acquisita, ma ecco, seguo anch'io la SPAL. È la squadra del cuore, insomma, della nostra città e quindi mi ha fatto molto piacere. Ecco, è la prima volta che vedo di persona il Presidente Giotta Coppina e l'incontro di oggi è stato anche molto interessante proprio dal punto di vista delle... il Presidente li ha chiamati cinque pilastri, ecco, su cui si deve basare la mentalità proprio di vita e l'atteggiamento di vita di una persona, ecco, quindi ho apprezzato molto anche il carisma che ha trasmesso il Presidente e i nostri ragazzi. Ecco, spero che questi insegnamenti di vita siano poi anche seguiti dai nostri studenti nell'arco dell'intera... sia della carriera scolastica che della carriera sportiva che della vita in generale. Si è conclusa oggi il progetto con il Presidente della SPAL, con il regalo, tra l'altro anche la firma e niente, siamo stati contenti e ringraziamo molto il Presidente, l'assessore e la preside e tutti i ragazzi ovviamente che hanno partecipato. Grazie a tutti.